Ragazzi, con Millie, Toniato, Carini e Zazzeri. C'è un cambio tra Biresi e Zazzeri rispetto alle batterie. Quarto posto per l'Italia in batteria, abbiamo detto, 3'37'96. Eh sì, è proprio l'ultima finale per il nuoto in corsia. Il Giappone in corsia, 8 con Aghino, Mori, Kobori e Nakamura. La Russia in corsia 1 con Larin, Gadirov, Sadovnikov e Vekovishev. Poi Stati Uniti dentro per poco con Ress Wilson, Leach, Held. La Polonia, Polevka, Stolarski, Cerniak e Maischrak. L'Italia, coraggio ragazzi, Matteo Millie, Adorso, Andrea Toniato, Rana, Giacomo Carini, Farfalla e Lorenzo Zazzeri. Che abbiamo già visto impegnato nello stile libero, nel crawl. Sorprendente Irlanda con Shane Patrick Ryan, Dara Green, Brandon Highland e Jordan Ross Sloan. Lituania non è una sorpresa. Rapsis, Sidlauskas, Duskinas e Stradas. Però le prime due frazioni sono quelle lituane, soprattutto Dorso e Rana. Poi dovranno tenere. Il Brasile in corsia 4, anche questa non è una sorpresa. da Gomes de Deus, de Oliveira Rodrigo, de Sousa Martins e da Silva Santos. Sono forti più o meno in tutte le frazioni brasiliane. Qui il pronostico veramente aperto. Ma si va con gli Stati Uniti, anche perché hanno cambiato tutti e quattro i frazionisti. Da Dale, Montague, Hartinger, Rooney, Arres, Wilson, Leach e Elda hanno rischiato di non esserci, ma ci sono. E come sempre sulla 4% visti uomini, sono loro i favoriti. Ottava medaglia per l'Italia in precedenza. Dopo tre quarti possi il bronzo della 4% missi donne. In 4-2-40 un crescendo meraviglioso, una di Liddo fantastica. Ma brave naturalmente tutte, si vince di squadra. E vediamo la risposta dei ragazzi azzurri con Millie, Toniato, Carini e Zazzeri. Italia ancora in corsia 3 dal basso. Potrebbe portare bene, anche se non siamo assolutamente superstiziosi. Stati Uniti in 7 e sono la squadra favorita lì di fianco all'Italia. Poi il Giappone in 8. Il Giappone che ha vinto un oro commovente con la 4% missi donne. Ultima finale del noto in corsia all'università di 4% missi uomini. Abbiamo Justin Rees in corsia 2 dal basso. Già davanti c'è Matteo Millie che prova a tenerne la scia in 3 dal basso per l'Italia. 25-68 Stati Uniti, Lituania, Italia. Bene Millie. Lituania che deve fare benissimo con Rapsis e con Sidlauska Sarana. In acqua anche Larin, Polevka, Ryan e Aghino Kojuke qua in basso. Italia attorno alla terza, quarta posizione. Davanti gli Stati Uniti. Poi la Lituania, il Giappone che è risalita bene con Aghino. La Russia e l'Italia. Frazione Arana, ancora fondamentale per la Lituania con Sidlauskas. Per l'Italia c'è Andrea Tognato, semifinalista nei 150 Arana. negli Stati Uniti c'è il campione Wilson, lo vedete qua in basso, campione dei 100 e 200. Nei 100 però campione ex equo. Ma è stato schierato Gadirov dalla Russia, che è là in alto. L'Italia è quarta al momento. 54-72 per Matteo Millie, che ha lasciato testimone in quinta posizione ad Andrea Tognato. Stati Uniti, Lituania come previsto, poi Giappone, Russia e sempre Italia. Ma adesso potrebbe cambiare tutto per la Lituania. C'è Duskinash, per gli Stati Uniti c'è Lynch, per la Russia Sadovnikov, per il Giappone Kobori e per l'Italia Giacomo Carini. Italia in corsia 3 dal basso. Stati Uniti dominanti, la Lituania resiste, là in alto c'è la Russia terza. Vantaggio enorme per Justin Joseph Lynch. E poi chiusura con il campione dei 100 stile, Ryan Joseph Held. resiste la Lituania anche se risale la Russia. E poi avrà una grande chiusura con Bekovicev, medagliato a livello individuale. L'Italia è indietro in questo momento, in ultima posizione, penultima con Giacomo Carini. Stati Uniti, Russia e Lituania per le medaglie, c'è anche il Giappone. Partito a manetta, Held, con bracciata tesissima nei 100 stile. Attenzione là in alto alla Russia, che è rimontato con Sadovnikov. Inquadratura che schiaccia come sempre. C'è Bekovicev comunque. Qua in basso il Giappone, in terza posizione. Stati Uniti, Russia e Giappone. Le grandi potenze alle Università di Macellitalia, nel medagliere anche. E come è previsto, niente da fare per la Lituania, nonostante le prime due frazioni. Teniamo d'occhio il primato delle Università di Giappone, 32-80. Medaglia d'oro per gli Stati Uniti, argento per la Russia e il bronzo Giappone. L'Italia lotta per la sesta posizione. 3-33-27. Il record mondiale, 3-27-28, stabilito a Roma 2009 dagli Stati Uniti. Il record dell'Università è proprio del Giappone, con costumi gommati a Belgrado nel 2009. 3-37-13 per l'Italia, che chiude in sesta posizione. 3-32-80 è il primato italiano, che risale agli europei di Debrez nel 2012, con Ditora, Scozzoli, Rivolta e Filippo Magnini. E' quindi il medagliere che viene vinto nel nuoto in corsia dagli Stati Uniti, con 11 medaglie. Un grande Giappone e poi c'è l'Italia, terza con 4 ori, 3 argenti e un bronzo. E le ottime impressioni, come abbiamo detto, per Qualarella e Paltriniere, naturalmente le punte. Ma anche per Megli, per Sirresi, per Mirresi, per Zazzeri, per Delido, per Petronio e per Acerenza. Il quinto in Italia, sui 1500 stile di sempre. E anche per Capponi, se vogliamo.